Quando per esempio fa la cattiva oppure non vuole sistemare i giocattoli chiama la polizia e Chloe ha tanta paura della polizia Sto chiamando la polizia Buongiorno! Io sono Vink e lei? Chloe, spiegheremo che cos'è la polizia Tu hai paura della polizia vero? Dovete sapere la mamma di Chloe quando per esempio fa la cattiva oppure non vuole sistemare i giocattoli chiama La polizia La polizia e Chloe ha tanta paura della polizia Sì Vero? E perché hai tanta paura della polizia? Perché vuole rimanere la cattiva Praticamente viene chiamata la polizia quando i bambini fanno i? Monelli 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 Ma tu sei più brava o più monella? Piara Sì Ma che dici? Già Io ho dato piava Tui Tu fai la brava? Sì Eh diciamo Qualche volta fai anche la monella vero? No, io piava Ogni tanto però fai la monella devi ammetterlo, no? Un pochino? No Un pochino dai Sì, pochino No Eh, dì la verità Sì Pochino, ho dato monella Pochino, vero? Sì e perchè fai la monella? e perchè fai la monella? e perchè fai la monella? eh? non ho capito è svenuta! chiamo la polizia clore vedi come si alza oggi andremo a spiegare cos'è la polizia polizia quando un bambino fa il cattivo vede il bambino cattivo viene chiamata automaticamente la polizia viene mandato in prigione con tutti i bambini monelli io? può succedere perchè se il bambino fa il monello viene chiamata subito la polizia e viene mandata tutti con i bambini monelli è Nathan praticamente Nathan è suo fratello ma tu vuoi che Nathan viene portato via dalla polizia? si come si? ma come? stavi scherzando? non ci credo da notare attentamente come disegno disegno bene? si diciamo chloe da oggi in poi mi prometti che ti comporterai davvero bene? si non mi sembri convinta vedo 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 chloe chiudi e se no chiamo la polizia chiamo la polizia chiamo la polizia chiamo subito la polizia chloe chiudi capito eh come fa il cane? palo fallo bene se no chiamo la polizia palo palo come fa il gatto? no e il cane? palo e l'asinello? io la mucca? mucca la rana? bè bè la rana fa bè si e il coccodrillo? mi devi dire come fa il coccodrillo se no chiamo la polizia coccodrillo eeeh mi dispiace chloe hai sempre ascoltato questa canzone del coccodrillo come fa e ancora a quest'età quanti anni hai? quattro? si a quest'età a quattro anni ancora non sai come fa il coccodrillo chiamiamo insieme la polizia perché? perché non sai come fa il coccodrillo ma perché aiuto a fare il naso devi soffiare il naso? va bene ma io sono uno zio buono o cattivo? eeeh buono sto chiamando la polizia sto mettendo il numero sii pronto polizia? e si sta comportando da... perché si sta comportando davvero tanto tanto male nooo 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 sto scherzando sto scherzando chloe tu mi vuoi comunque bene? sii anche se comunque volevo chiamare la polizia sii mi vuoi comunque bene? sii e ci diamo un grande abbraccio per fare pace? ma tu non mi stai abbracciando? in questo caso devi chiamare tu la polizia per me perché io sono il bimbo monello ma tu bravo io bravo sii nonostante tutto ma tu hai tutti gli animali? wow tutti gli animali? si e il coccodrillo come fa? ciao 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 tu